Buongiorno da Edo, lo sapete ovviamente già tutti perché gli utenti dei social ci tengono sempre particolarmente a far sapere al mondo che qualcosa gli ha dato fastidio, gli ha rotto il giochino e quindi la news è brevissima. CiaGPT ha bloccato gli IP italiani e quindi dall'Italia non è possibile accedere al servizio di OpenAI. Ma io uso una VPN perché sono più intelligente di tutti. Quello che il delirio collettivo rischia di offuscare sono i dettagli di questa notizia, ma in questo caso i dettagli sono la cosa più importante. Innanzitutto una cosa fondamentale, il garante per la protezione dei dati personali non ha ordinato di bloccare CiaGPT, non c'è nessuna censura. Quindi quelli che hanno parlato di censura come un noto politico piuttosto scarso stanno mentendo o non hanno idea di cosa significano le parole, comunque è grave in entrambi i casi. Il garante infatti ha chiesto a OpenAI la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali dei cittadini italiani e ha dato 20 giorni per comunicare come questo sarebbe stato attuato. Quindi a bloccarsi da sola è stata OpenAI che evidentemente in mancanza di risposte adeguate ha preferito chiudere completamente un mercato, peraltro rimborsando che aveva già comprato l'abbonamento plus piuttosto che avviare un confronto. E poi vediamo un altro dettaglio. Perché il garante ha mandato questa comunicazione? Perché CiaGPT non starebbe rispettando le direttive del GDPR, non avverte gli utenti su quali dati personali sono raccolti da OpenAI, peraltro salvandoli sui server americani perché la società non ha sede in Europa ma solo un rappresentante, e poi perché manca una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di questi dati personali allo scopo di addestrare gli algoritmi di GPT. Oltre a questo c'è una questione legata alla verifica dell'età degli utenti, cioè CiaGPT potrebbe stampare informazioni che non sono idonee ai minori e manca un filtro per limitarne l'accesso. E poi la questione del bug del 20 marzo, quando tutti potevano vedere la cronologia di ricerca degli altri utenti, un data leak piuttosto pesante, passato dire il vero un po' in sordina. E infine, come si sa, le informazioni presentate non corrispondono sempre al dato reale, quindi su CiaGPT possiamo chiedere informazioni su una persona e queste potrebbero essere totalmente o parzialmente inesatte. Ed ecco qui un altro problema di trattamento di dati personali. Quindi, una volta che sappiamo questi dettagli, possiamo avere un quadro più lucido della situazione. Possiamo anche scoprire, per esempio, che a febbraio era stato preso un provvedimento simile contro Replica, un chatbot che crea qualcosa di simile a un compagno umano con cui conversare e che è talmente convincente che in certi casi le persone avevano sviluppato una relazione sentimentale con questa cosa. Il problema fondamentale qui è quindi la trasparenza. Io non ho le competenze adeguate per discutere della bontà del GDPR e non so se il garante potesse o no prendere questo provvedimento, ma vedo in giro alcuni avvocati che scrivono che il GDPR è in effetti applicabile all'AI e al machine learning e che probabilmente gli altri paesi europei stanno ringraziando il garante italiano per essere andato avanti per primo e che iniziative simili potrebbero ripetersi. Trasparenza significa informare gli utenti su quali dati vengono raccolti, perché, dove vengono memorizzati e per quanto tempo. Sul disclaimer di chatGBT c'è scritto che le informazioni possono essere inaccurate perché basate su dati raccolti fino al 2021, ma è stato più volte dimostrato che gli input degli utenti stanno effettivamente addestrando l'algoritmo e aggiornando le risposte, quindi la raccolta di dati esiste e siccome esiste un framework legislativo che la regolamenta, il garante chiede che sia applicato. Certo, poi possiamo continuare a dire che la cosa ci dà fastidio perché noi siamo utenti consapevoli e che vogliamo usare i software in beta e conosciamo i nostri rischi. A parte che molte volte questo non è vero, ma anche a me dà fastidio non poter accedere a chatGBT senza accendere la VPN o Tor, ma vorrei che come comunità di informatici ogni tanto ci fermassimo a riflettere sul fatto che noi siamo una bolla, mediamente con un livello di istruzione elevato, conoscenza dell'inglese e comprensione dei meccanismi base del funzionamento di un algoritmo o della manipolazione dei dati. Ma fuori dalla nostra bolla ci sono le altre persone, quelle che non hanno gli strumenti per capire che il testo prodotto da GPT è prodotto con strumenti probabilistici e non deterministici e che non è la verità o la realtà, ma soltanto quello che un algoritmo ritiene sia la forma testuale più vicina possibile a una risposta definibile come corretta. E ancora una volta voglio rompere i coglioni sulla divulgazione scientifica di cui tutti noi dovremmo farci carico, se non per ragioni etiche o morali, almeno perché ci conviene, perché stare in mezzo a gente più informata vuol dire che stiamo meglio tutti, vuol dire non avere il cookie banner, vuol dire avere meno limitazioni sull'accesso a servizi innovativi. Se la gente non sa cos'è un pre-trained model glielo dobbiamo spiegare, dobbiamo spiegare cos'è il labeling, dobbiamo spiegare cos'è il reinforcement learning, cos'è il machine learning, il natural language processing. Cioè ragazzi abbiamo una responsabilità e anche un potere, sapete che è da grandi poteri. A parte gli scherzi, la cultura dell'open source è anche questa, non possiamo limitarci a dire che il codice aperto è meglio. E poi una volta aperto ce lo leggiamo tra di noi, ci diciamo beh è ora che noi tutti illuminati possiamo leggere il codice e vi possiamo assicurare che è tutto a posto, fidatevi. No, dobbiamo spiegare cosa significa che è tutto a posto, se vogliamo che tutti intorno a noi ci sostengano quando chiediamo più trasparenza e codice aperto. E niente, quindi mi sono triggerato un pochino perché secondo me queste robe sono importanti, sono più importanti del singolo caso del blocco di CiaGPT. Ma vabbè, come sempre, se avete voglia mi farete sapere cosa ne pensate, ma intanto spero di aver dato qualche informazione ulteriore utile a capire il contesto e quello che ne penso. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo alla prossima. Ciao!